Salve signori sono Sleepax e come state vedendo insomma sto caricando meno video del solito C'è un motivo eh non è che non c'ho voglia E' perché a scuola insomma si sono divertiti questa settimana a dare verifiche interrogazioni random e quindi non è che abbia avuto tanto tempo Poi c'è anche da tenere conto che ho fatto scuola aperta sabato che magari sabato riuscivo a fare qualcosina Invece c'è stata appunto scuola aperta domenica non sono neanche stato a casa quindi Praticamente la settimana scorsa non ho avuto neanche un secondo per tentare di fare un video ok Quindi siccome oggi c'avevo un po' di tempo non è che volessi fare chissà che cosa Allora ho detto facciamo sto tipo gameplay roba commentary a caso ecco Quindi sinceramente non so neanche io cosa metterei cioè cosa metterò sotto come sottofondo ecco che partita che qualcosa metto non so cosa Quindi cosa cosa voglio dirvi oggi Allora siccome stiamo ci stiamo avvicinando alle vacanze natalizie Si stiamo avvicinando a Santa Lucia che se non lo sapete in Veneto c'è più che altro da me Invece di festeggiare Natale insomma con i regali sotto l'albero Noi festeggiamo il 13 che è Santa Lucia che sarebbe questa santa che va in giro a portare i regali ai bambini Insomma vabbè noi è il contrario non abbiamo Babbo Natale cioè ce l'abbiamo però Santa Lucia Vabbè cosa succede siccome appunto ci saranno le vacanze natale si spera che si abbassino un pelo i prezzi delle console di qualsiasi cosa Quindi forse forse comprerò la Xbox One Se la trovo a un prezzo decente cioè se arriva a 299 euro la compro subito Se va ancora meno meglio e se no non lo so perché sopra i 300 non so quanto vale la pena ecco Perché insomma dopo due anni è stata scontata solo di 100 euro anzi forse neanche Comunque vedremo ecco quindi questo era il primo punto che mi è venuto in mente di dirvi ecco Quindi magari ci sarà qualche forse Battlefield sulla One forse Star Wars ecco sicuramente Halo perché Halo è Halo Ecco quindi questo è quello che volevo dirvi Poi un'altra cosa che voi non avete potuto vedere però io si è che è successo un attimo una crisi diciamo Una crisi tra visualizzazioni iscritti che si sono iscritti conquistati iscritti persi ecco E tempi di visualizzazione insomma è successo un po' un casino Quindi cosa è successo è successo che giustamente ci sono alti e bassi con YouTube Quindi a me è capitato che fino alla settimana scorsa o fino a due settimane fa Mi si sono abbassate le visualizzazioni mensili che da 4000 visualizzazioni mensili siamo passati a 2000 E poco più di 2000 diciamo anche il tempo di visualizzazione è arrivato a 6000 minuti guardati Gli iscritti da 41 al mese che si sono pochi però vabbè siamo passati a 18 al mese Quindi si c'è stata un attimo una crisi adesso sto vedendo che si sta un attimo rialzando la cosa Tutte le analytics si stanno rialzando siamo a 32 iscritti al mese quindi è abbastanza buono ecco Per come era prima e ho visto insomma che si sono iscritti in tanti quindi bene sono contento Quindi anche le visualizzazioni sono alzate siamo a 3000 e passa se non 4000 come prima diciamo E anche i minuti di visualizzazione siamo ritornati a quei 10.000 che di base che avevo ecco Quindi questo è un po' quello che ho notato E ho notato che sarei già arrivato a 1000 iscritti se non si fossero disiscritti quei 300 lì Perché o hanno chiuso il canale o si sono disiscritti loro però sono pochi quelli che si sono disiscritti C'è un attimo un problema ecco Il fact time lo carico lo carico tranquilli forse l'ho caricato già non lo so Comunque il problema è che quando registro l'avevo già registrato Però quando registro o non parte il video perché c'è il pulsante un po' spastico O succedono casini o finisce non so si scarica la batteria ecco quindi Questo è il tutto e quindi cazzo mi sono accorto adesso che potevo registrarla con la GoPro Sono un ritardato Allora Cosa 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 succede? Questo era il video volevo un po' aggiornarmi su cosa su cosa erano le questioni del canale ecco Quindi niente non so cosa c'è se vi è piaciuto cosa volete mettere mi piace Che non ho detto niente di che non è che abbia fatto chissà che cosa Quindi niente noi ci vediamo nel prossimo video e ciao 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 Ciao